Si chiama LEVMH, è un gruppo proprietario di diversi marchi, tra cui anche lo stesso Louis Vuitton, è andato ad assumere circa 25.000 giovani, anche a 30, quindi sotto i 30 anni, in tutto il mondo, entro la fine dell'anno 2022. È la stessa LEVMH ad aver annunciato tutto questo, nell'ambito del progetto chiamato Craft the Future. Il progetto riguarda tutto il paese da terra, soprattutto la Francia, dove ci saranno circa contratti a tempo indeterminato che saranno ben 2.500. 5.000 gli contratti da premistato, re-intership, come di recente è stato riportato nel web. Tante persone dunque che andranno a candidarsi, sarà tutto esaurito, punto interrogativo, secondo me sì, perché leggendo le notizie del genere, le persone giovani di oggi, di tutto il mondo, andranno certamente a candidarsi per Louis Vuitton, per un marchio importante. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratori Alian, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, attivate la campanella per non perdervi alcun video. Ciao da Reano, al prossimo video.